Allora, che emozione portare questi bambini in giro? Beh, sempre una emozione, poi questi bambini meritano molto. Speciali? Sono speciali, quindi meritano molto, e lo facevo con molto piacere. Ho capito. Vi ringraziamo di cuore per quello che state facendo oggi. Per niente. Lei è solo il testimonial. Grazie. Grazie, la Gebeo vi ringrazia. Grazie a lei. Che cosa prova a portare in giro questi bambini speciali? Mi piace. Grazie a te. Grazie, da parte della Gebeo. Vai, cavaliere. Siamo pronti a questa forte emozione oggi? Prontissimi. Eh? Sì. Siamo pronti? Mario. Scusa. Scusami. Scusami.